Sindaco, San Severino si appresta ad ospitare la mostra Mercato delle Attività Produttive, innanzitutto un traguardo importante, 25 anni, 25 edizioni che hanno un po' raccontato la storia del tessuto produttivo di questa città, ma adesso quali sono le aspettative da questa mostra? Bravo, a parte appunto dal numero 25 potrebbe essere un punto di arrivo, invece credo che sia un punto di partenza. Lo sta a dimostrare la partecipazione quest'anno rispetto agli anni passati, comunque importante e significativa, perché come dicevi è rappresentata appunto la storia produttiva di questa comunità, la partecipazione delle imprese storiche e classiche che hanno caratterizzato il manufatturiero di San Severino. La mostra sarà anche un'occasione per consegnare dei premi ad altrettante realtà del territorio settempedano. Sì, i premi che vengono dati appunto alle aziende del territorio, quindi l'agricoltura che rappresenta quindi il lavoro in agricoltura, il commercio e l'artigianato, che sono le associazioni tra l'altro che costituiscono l'associazione di attività produttive. Poi un premio speciale, il premio speciale, la proposta è partita proprio dall'amministrazione, il sottoscritto è stata ben accolta dagli organizzatori di premiare il reparto di oncologia del nostro ospedale. Il reparto di oncologia, noi greciamente, cioè con amore e passione guidato dalla dottoressa Ferretti, ma tutta l'equipe, quindi non è che viene riconosciuto il lavoro e l'amore alla dottoressa, ma tutto il reparto. Siamo in compagnia di un gruppo di architetti di San Severino che sarà presente alla 25esima mostra mercato delle attività produttive. Innanzitutto perché e con quali prospettive? Allora, siamo stati coinvolti dalla mostra delle attività produttive che ringraziamo appunto, cogliamo l'occasione per ringraziare, del coinvolgimento. Siamo un gruppo eterogeneo perché facciamo parte di tutti i studi di progettazione diversi, io sono Francesca Ceci di Petricor Studio, con me c'è Francesca Cruciani ed Ilde Cipolletti che non è adesso presente di MC2 Lab, Claudia Colagliani e Andrea Stortini. Un'altra assenza è data dall'architetto Cristiana Antonini. Ci siamo riuniti e abbiamo formato un gruppo che abbiamo denominato Start, ci piace definirlo come uno spin-off, un derivato di questa mostra delle attività produttive, un derivato che ha l'obiettivo di mostrare i prodotti di San Severino, delle eccellenze settempedane sotto un altro punto di vista, quindi discostandoci un po' da quello al quale siamo stati abituati nel corso di questi anni. Abbiamo deciso di farlo tramite un'installazione architettonica interattiva che si compone di varie sezioni. Noi le abbiamo un po' coordinate, è quella che ci vede effettivamente i protagonisti e quella che si tiene nella sala degli stemmi in cui sono appunto mostrati, esposti tutti i materiali ma non sotto la veste che dicevamo, ma è un'esposizione tattile, è quasi una performance perché il visitatore la può attraversare e può giocare con essa, diventa parte integrante.